Ciao ragazzi, allora benvenuti sul canale. Oggi parliamo di raspini, eccolo qui, perché abbiamo una new entry e la volevo condividere con voi. Aspettate che alzo un po' perché secondo me questo è troppo basso e non si vede bene. Vediamo se così va meglio, eh. Insomma, vabbè, ce lo facciamo andare meglio, dai, sicuramente meglio di prima. Ora, intanto vi apro la scatola perché non serve. Questa è una scatola che io conservo per metterci dentro tutti o almeno una parte, vedete che è tutta sporca di pelucchi, tutti o almeno una parte dei miei raspini. Ecco qui. Allora, togliamo innanzitutto questo, ecco così, meno evidente a tutti i pelucchi. Si vede che ho i gatti in casa, ogni tanto si vede qualche pelo di gatto. Bene, bene. Vi faccio vedere prima qual è la collana pendente che ho scelto. È una collana importante nel senso di dimensioni, sia in lunghezza sia il pendente, molto, molto grande. E anche come veste, perché non veste la tipica collana, quella tipo a girocollo che siamo abituati a vedere. Questa è molto lunga, arriva praticamente, a me mi arriva sopra l'ombelico, più o meno. Insomma, è una 90 cm, è regolabile sicuramente perché ha il moschettone dietro, ma adesso guardiamo tutte le caratteristiche. Però, sapete, insomma, in qualche modo, se la vogliamo portare lunga, questo è. Vediamo un po', innanzitutto, vi voglio far vedere, ecco, ve la faccio vedere prima sul sito di Raspini proprio, come viene descritta e la dimensione che ha. Così, quando la vediamo dal vivo, possiamo renderci conto se ciò che si percepisce dal sito è la stessa cosa di quando poi la si vede dal vivo, insomma. Va bene, eccola qui. Già l'avevo scaricato. È lei. Una bellissima stella marina. Bellissima. Vedete? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Togli. Vedete che qui sopra ha dei barillottini, due con dei zirconi e poi uno semplice. Vi voglio far vedere, però, a questo punto, come è quando è indossata. Questa è la modella che lo indossa, lo indossa all'ultimo anellino, quindi diciamo la lunghezza reale e come potete vedere è una lunghezza abbastanza considerevole, ma è altrettanto considerevole il diametro, dovrebbe essere di 9 cm, scusate, dopo andiamo a vedere meglio, il diametro di questa stella marina. Fatta benissimo, molto bella e molto, molto, molto importante. Vedete anche la maglia della collana. È una maglia comunque che non è sottile, come è potuto accadere per il medaglione, quello con le farfalle, perché quando ho acquistato il primo oggetto, anzi no, il secondo, perché il primo è stato l'anello, il secondo oggetto raspini era il medaglione con le farfalle, aveva una lunghezza simile, ma il laccio, che però si toglie, fortunatamente, il laccio è un laccio sottile. Infatti lo utilizzo per mettere anche altre cose, insomma. Perché, ecco, mentre questo non si stacca, non si stacca dal pendente, rimane tutto unito, però è anche molto rilevante. Vedete la maglia com'è, com'è grande? Adesso la vediamo meglio nel dettaglio. E anche a lei arriva praticamente sopra l'ombelico, insomma, alla fine è questo. Eccolo qui, questo è il moschettone, come potete vedere, con tutti gli anellini, quindi si può regolare come ci può andare bene a noi, però teniamo conto che la regolazione comunque fa cambiare un pochino l'altezza del... Aspetta, adesso ve lo dico meglio. Se noi lo stringiamo troppo, il moschettone, tipo lo mettiamo qui, in questo punto, aspettate, in questo punto, la collana, che come vedete è legata qui, non scorre, verrà tutta sul pendente, quindi bisogna anche regolarsi un attimino. Non si può accorciare tantissimo, ecco, questo che volevo dire. A meno che non ci faccia piacere comunque vedere il moschettone magari a un'altezza così della clavicola o sopra il seno, per vedere la stella un po' più alta. Questa è la discrezione poi, insomma. Vediamo che cosa si può capire. Aspettate, la rimetto qui. Ecco, questa è la collana. Accorciamo un po'. Qui la descrizione dice l'impareggiabile bellezza di una creazione di Giovanni Raspini, praticamente parla al cuore e sorprende gli occhi. Questo pendente stella marina, realizzato in argento brunito, mediante l'antica tecnica della cera persa, è un regalo perfetto per una donna affascinante e volitiva. Vabbè. È in argento con cristalli swarovski, quelle rondelline che abbiamo visto sopra. La lunghezza della catena è 90 cm, è regolabile, ma come abbiamo detto bisognerà vedere. La lunghezza del pendente, appunto, ricordavo bene, 9 cm. Chiusura con moschettone, fatto a mano in Italia. Diciamo che le ultime due diciture sono quelle che mi piacciono di più. La chiusura è fatta a mano in Italia, ok? Detto ciò non mi perdo in chiacchiere e ve lo mostro subito. Eh vabbè, qui un po' di casino, adesso lo spostiamo. Eccolo qui, sì perché c'era la sua confezione. Ancora ha il cartellino perché prima ve lo volevo mostrare per bene, prima di farvelo, di parlarvene. Cioè, prima ve ne volevo parlare, prima di mostrarvelo. Ho girato la frase. Questi sono gli swarovski inseriti in queste due rondelle. Vedete, la catena è proprio attaccata, cioè non c'è proprio possibilità neanche di far scorrere questa catena perché è proprio saldata qui. Eccola qui. Ebbene sì, adesso lo vediamo. Oddio, balliamo tutto. Ma se togliamo questo non facciamo prima? Dai. Magari per farlo vedere meglio metto l'altro coperchio. Ok. Adesso sì che si ragiona. Ovviamente questo è il suo cartellino con il codice. Questo è il moschettone, insomma il solito moschettone di raspini, come potete vedere, alla scritta. Ok. Poi la medaglietta con, questa è importante, questa è praticamente la caratteristica di autenticità, la si vede qui. Aspettate che accorcio un po' però, eh. Perché tanti me lo chiedono, ma come facciamo a capire? Eccola, si vede qui. Ok. E il cornettino tipico dei gioielli raspini. Ogni gioiello raspini ha questo cornetto in argento identificativo. Vedete la maglia com'è? È una maglia ad anelli sottili e martellati, per dare più luce quando la si indossa. Perché è proprio martellato, vedete? L'hanno proprio preso a martellate. Se mi sente segretaria, dice che faccio sempre video stupidi. Vabbè, che dobbiamo fare? Siamo un po' tutte stupidine a volte. Eccolo qui. Questa è la catena, ma quello di cui volevo parlare, appunto, è lei, la bellissima Stella Marina. Io ve la faccio vedere un pochino più da vicino nel dettaglio per capire proprio la sua bellezza. È leggera, è leggera, non è pesante, quindi la si può indossare con una certa disinvoltura. È fatta molto bene. È grande. Sono i famosi 9 centimetri che, caspita, non passa inosservata, ecco. Come dicevamo sempre, a volte i gioielli servono proprio per arricchire un outfit magari più sobrio con una cosa o due cose abbastanza visibili. Eccoci qua. Bello, bello, bello. Adesso però accorciamo, eh. Perché altrimenti così si perde un po' tutto il mood. Eccolo qui. Questa è la catena. Questi sono i due, i tre anellini, perdonatemi. E questa è la meraviglia. Mamma mia, che spettacolo. Quanto mi piace questa immagine. Io come devo fare? È troppo bella. Però vi volevo vedere una cosa insieme a voi riguardo alla lunghezza. Perché mi è sorto un dubbio. Ma se noi, così, eh, la butto lì. Mi ho chiesto che sì, no? Oh, mamma mia. Ce n'è sempre una. Ma se noi lo volessimo accorciare tipo girocollo, no? Per capirci. E lo mettiamo. Vediamo se riesco, eh. Perché magari sto inventando stupidaggini. Però... Una cosa del genere. Allora. Con il doppio. C'entra tutto nel moschettone. Siamo a cavallo, eh. Però dovrebbe entrarci... Eh. Dovrebbe entrarci sia il primo... La prima parte, così. E vai andata. Che altre due parti. Ok. Nel moschettone c'entra. Eccola qui. Eccola qui. La si può accorciare anche così. Certo, si vede il moschettone... Dove vai? Si vede il moschettone. Questo sì. Vedete? Con il pendente, il cornetto. Però la si può indossare... Vieni, 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 vieni giù. Vieni giù. Vedete? La sposto tranquillamente. La si può indossare anche in questo modo. Allora, allora. Se è questo il discorso... Probabilmente io questo moschettone lo posso spostare ovunque. Perché? Io adesso ho preso queste due maglie che erano una... Per mantenere comunque un certo centrale, no? Una di questa, una di questa. Ma prima ho fatto entrare la maglia che andava dietro al collo, no? E... Non è male. Però se io la volessi... La volessi anche un pochino più lunga per dire... Vediamo un po'. Allora. Togliamo le prime due. Eccole. Le facciamo scorrere. Qui, per esempio. E le possiamo agganciare una... Aspettate. Una... Dov'è l'altra? La son persa. Ecco qua. 1 e 2. Quindi a questo punto si stringe un pochino... No. Non si stringe niente. Ho fatto una stupidaggine. Eccola qua. Si. Si stringe un pochino di più sul collo, ma viene un po' più lunga. Vedete come viene? Eccola qua. Beh, dai. Ci si può giocare un po' in qualche modo. Su. Si può apprezzare di più in questo modo. Perché è vero che lunga sta benissimo. E io ve lo dico. Lunga sta veramente molto molto bene. Ma anche così, secondo me, ha il suo perché. Bella. Bella molto questa immagine. Carina. Mi piace tanto. Quasi quasi me la metto come immagine di copertina. Ma sì, dai. Molto graziosa. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video per quanto riguarda raspini. Ma adesso vi volevo far vedere invece un video, chissà, forse troll beats. Perché sono riuscita a trovare delle chicche di troll beats molto carine. Dei ritirati. Tre vetri ritirati. E di uno stesso set. Belli, belli, belli. Infatti adesso sto pensando a un bracciale. È un bracciale. Sempre tema mare. Ma tipo mare tropicale. Quei mari che hanno quell'acqua così chiara chiara, azzurrina. Con quella sabbia impalpabile. Quel colore appena appena sfumato. Ecco, questo è più o meno il set. Tant'è che nomina anche l'acqua. Eh sì, eh sì. Dai, vi ho detto troppo. Adesso vi faccio vedere altri video. E vi saluto con raspini. Ciao ragazzi e ciao ragazzi.